me l'hai portata da me o edo ciao non potete passare forte no mi sa che potevano passare la porta signori benvenuti appoggia adesso vi faccio vedere una cosa un amico di serie visto ti è piaciuto se volete c'è anche più carino guarda non possiamo combatterlo alle nanomachines ragazzi finché ha preso solo edoardo va benissimo no 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 io ti ho votato senatore io ti ho votato senatore io ti ho votato senatore armstrong ti prego perché oh no il piccolo cieco ho paura poi tu mi siamo finiti ah il bagno finalmente perché mi sono cacato sotto poggo ma quanti ne hai messi buone sono tre o quattro che girovagano per allora allora volete fare una cosa divertente adesso li eliminati tutti incontriamoci adesso vi faccio fare una missione divertente vediamo chi resiste di più ok da quale vorreste scappare diciamo che ne devi spawnare almeno due però da vari diversi ok li vado a spawnare cominciate a scappare ne ho spawnati tre totali 3 tanto cielo se no vieni vieni vediamo chi c'è via 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 io scappo io scappo come se non c'è su mani ma che musica è quella poco no è la mucca mi ha preso ma che mucca è quello che è una mucca che balla poi c'è spongebob e ciò bunga divertitevi prendi dietro 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 a me ho vinto io mi sa bastardo aiuto sedia ci sono molteplici shrek ragazzi ragazzi credo che non siano ieri di shrek quindi ora proveremo a massacrare voglia le muccia grazie mille di generali armstrong che vi inseguono così l'importante è che non trovo armstrong io ma perché l'animazione è fatta così bene maledizione è vero sono perfetti che botta forti mi sa che potevano passare la porta sedia te la stai spassando a foggia non mi ricordavo fosse così caotica vogliamo oggi che nascondino sì però in questa mappa è impossibile impostor is amocus oh edo ciao cerca uno di voi io e l'altro che rimane ci nascondiamo e poi vi switchate farò finta di aver capito chi viene trovato viene ucciso e quando respawna aiuta l'altra persona a trovare non ho capito allora adesso io e ho capito quindi sei tu che cerchi va bene cercherò io ok ma quindi non ho seguito regole mi troverà mai qua ma enorme questa mappa oh io è vero posso fare una cosa non vale quello che stai facendo ok come facili a saperlo allora adesso vi racconto una storia ragazzi si tratta della storia di come ho massacrato la mia famiglia ottimo dove sei mi da informazioni è visto alcuno oggo doggo si stanno muovendo nell'iperspazio quindi stava facendo l'unica cosa che non doveva fare questo significa che adesso la partita diventa molto più difficile domanda se sedia cominciasse a fare sul serio bro che ti devo dire la mappa è grande no non potevi contrattaccare ma io ho sparato per caso non sarei chiuso e colpito c'è solo un modo per trovare pogo pogo dove sei buio buio non ci posso credere ho visto sedia che si girava mi ha guardato e se n'è andato ho sbagliato dov'è aspetta 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 ma sei serio ma da dove ce li hai gli occhi perdona ma è un pomo dietro ma ti sei nascosto con con gli oggetti o sei un animale io penso davanti sette volte ma chi ti aveva ovvio stai stai nascosto nel come si chiama nella discarica del backroom scusami strano vedere una vasca che flutto a lì chissà chi ci si ma io non mi faccio ho visto un bunga che mi inseguiva cioè io non è che mi faccio tante domande quando gioco con voi vabbè vi volete nascondere voi vi cerco io vabbiamo vai va bene allora io metterò una cosa tirando va bene un belmo un belmo verde lo riempiamo di pompelmi dove stai pogo e dovrei dirlo io a voi io sono in un posto pieno di pompelmi ragazzi vero quello io ero quello divertente a scuola si si ma che stai facendo un belmo 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 credetemi nel momento in cui mi troverete lo saprete un belmo un belmo un belmo come devi essere nelle backroom sono meno sono assolutamente nelle backrooms anche un belmo assolutamente pomper ma perché pomper il mo scusami lo capirai quando verrai qui poco mi ha trovato io non ci posso credere ma scusa ma sono angurie sono delle angurie o non mi dire che hai spawnato robe no i miei pompelmi i miei pompelmi eccoli no tutti quelli che avevo messo qua non ci posso credere ma perché un belmo no di nuovo e dove vuoi divertirti no i miei pompelmi lasciate stare i miei pompelmi vi uccido la famiglia e animali che siete siete proprio guarda ma se questa cosa mettetevi è premete ok siete dentro che stai facendo mi divertivo così da piccolo su gmonna cosa succede non ti preoccupare esattamente come quando ero bambino mi attaccavano al paraurti e mi trascinavano con l'auto vorrei fare un'app un po più lineare però dobbiamo scappare tipo da un milione di c'è flat grass ti consiglio di mettere ha perso i pompelmi ragazzi calmatevi questo è un elicottero lo volete vedere un elicottero volete vedere ho comprato un elicottero ho dei problemi stanno si un mando piero aiutami tu vai piero ma che mi stavi sparando a buongiorno bel momento permetti un'ultima fuga prima di chiudere la live assolutamente sì ok in posizione mettetevi nella macchina vai lo spawno lontano viene via 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 subito uno solo uno è per il momento si non va più veloce questo coso lo sfido edo out no buongiorno